Questa grande soddisfazione non deve avere una matrice per forza. E questa matrice non deve essere il fatto che l'abbiamo fatta contro i francesi, per esempio, oppure perché in questo momento è importante, perché c'è quello che c'è nel calcio. No, deve avere semplicemente la valenza di far capire al mondo la qualità dei calciatori italiani. I ragazzi sono stati bravissimi a dare un'immagine bella del calcio italiano, piena di valori tecnici, psicologici e morali. Lui ha dormito con la coppa stanotte. E' quello che ha, perché essere campioni del mondo, però ho guardato quanto fosse bella. Questa lo sapete che non è quella vera, quella vera ce l'hanno loro. Non solo per la tua napoletanità, credo che questo sia un album. Mi cantava, era tutto eforico, quindi anche a parlare in cielo addosso alla fine. Hai qualcosa? No, non so, non gli ho chiesto a Marco cosa gli ha detto, però penso che qualsiasi cosa gli abbia detto Marco, una reazione del genere è inspiegabile. È inspiegabile soprattutto perché da un campione come lui, l'ultima partita, sicuramente ci si aspettava un comportamento diverso. È un fascino strano e diverso, perché comunque non mi interessa, è giusto che chi ha sbagliato paghi, perché noi abbiamo cercato di dare dei valori al calcio e quindi è giusto continuare su questa strada. Grazie! 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 Grazie!